Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, cari amici, cari amici dell'Agosto de Gasperiano. Benvenuti qui all'Auditorium Santa Chiara per questo ultimo evento della nostra rassegna. Con molti di voi il percorso è iniziato già all'inizio di Agosto. Tante tappe per discutere insieme su un tema importante e ricco come quello delle inquietudini che avvolgono il nostro tempo. Questo per noi è un evento particolarmente bello, lo aspettavamo con trepidazione. E la trepidazione l'abbiamo avuta fino all'ultimo, abbiamo dovuto combattere con bombe sui treni che fanno saltare gli arrivi e con tante altre situazioni. Ed eccoci qua con voi, è davvero molto molto bello. Ecco, l'ultimo evento di una rassegna è un momento per tirare le fila anche di tutto un percorso e la lezione di questa sera ci aiuterà a farlo. È anche l'occasione per dire qualche grazie, dovrei dirne tantissimi perché sono davvero tante le persone che in questo mese ci hanno accompagnato, sia dandoci una mano concreta, sia dandoci un sorriso, un applauso, una pacca sulla spalla, che per noi vuol dire davvero molto. Mi limito a ringraziare alcuni dei nostri partner che sono in sala, un grazie particolare lo devo dare alla Fondazione Caritro, l'Agosto del Gasperano da quando nasce è sostenuto dalla Fondazione Caritro e senza non potrebbe esistere. Un grazie particolare anche al Centro Santa Chiara che ci dà la possibilità di essere qui oggi. Per noi è davvero un regalo, una meraviglia avere uno spazio così per chiudere in bellezza il nostro percorso. Un grazie speciale anche al Comune di Trento ed ecco perché qui al mio fianco c'è l'assessora Elisabetta Bozzarelli, Comune di Trento che ormai da tempo condivide con la Fondazione un percorso all'insegna dell'educazione, nella cittadinanza, dei buoni pensieri, delle parole dette bene, è un percorso che contiamo di continuare a condividere, di far crescere nell'interesse spero davvero di tutti. Elisabetta, grazie. Grazie Marco. Innanzitutto porto i saluti del Sindaco Franco Ieneselli a questa meravigliosa serata, ma in particolare alla Fondazione Trentina al Città di Gasperi, a te direttore, ma a tutto lo staff che avete lavorato con passione in questi bellissimi e profondi momenti dell'agosto de Gasperiano. Arriviamo a settembre ma siamo onorati che questa rassegna si concluda proprio nella nostra città con il professor Galimberti. Pensavo venendo qui a questa serata insieme a tanti di voi che il male di vivere per usare le parole di Montale c'è sempre stato, ma mai forse diffuso come oggi, ce lo dicono gli insegnanti a scuola, le persone che lavorano nel mondo del sociale. Ci raccontano che dopo la pandemia si è tornati con nuovi bisogni, nuove sfide, soprattutto tra i giovani. Le nuove dipendenze, l'ecoansia, il ritiro sociale, la difficoltà a guardare il futuro sono aspetti che guardiamo, che vediamo, anche dall'osservatorio del Comune. E a proposito di queste, le parole di Galimberti penso che facciano riflettere ciascuno di noi, perché di questo siamo responsabili noi adulti, che ci siamo lasciati accorpare in questo senso della realtà, in questo senso del realismo, che ci fa perdere ogni vincolo solidaristico, ogni vincolo di pietà, se non ridotto a quello che è la sfera prettamente familiare. E appunto, dicevo, da questo osservatorio è anche quello del Comune di Trento, che vede famiglie sempre più isolate, anche da vincoli parentali o addirittura di quartiere. Vediamo giovani persi sui social, relazioni che confinano in quello che è un utilitarismo nel mondo del lavoro, delle relazioni sociali e anche il divertimento non è un momento liberatorio, ma è dentro a un progetto di fine consumistico. È forse da questo sguardo, che per carità e per fortuna è assolutamente parziale rispetto al resto che ci circonda, che abbiamo scelto la felicità come tema centrale del Trento Capitale Europeo del Volontariato nel 2024. Perché siamo convinti che anche nei momenti di difficoltà, guardare alle relazioni sociali, fare un passo verso l'altro, è quello che ci può far essere felici. E anche nei momenti di difficoltà dobbiamo trovare questa strada, questo modo, questo desiderio. Ecco allora che forse condividere il male di cui parlava Montale è forse l'inizio di una terapia. E l'inizio della terapia però è anche trovarci qui in tanti questa sera, a voler riflettere insieme sulle onde di quelle belle parole, di quel orizzonte di valori comuni che la Fondazione Trentina Cide De Gasperi ci insegna sempre a guardare, in particolare partendo dai nostri giovani. Grazie. Grazie Assessore, grazie Elisabetta. Trento è uno dei comuni che ha appoggiato l'Agosto De Gasperiano, che si snoda un po' sul sentiero del Cide De Gasperi, da Pieve Tesino alla Val Sugana, e non poteva non arrivare anche a Trento, la città dove De Gasperi sperimenta per la prima volta la partecipazione civile, l'impegno per la propria comunità, il suo punto di partenza verso tutta una vita spesa dietro un'idea, quella del bene comune. E proprio alla ricerca di alcune idee alte che possano orientare la nostra navigazione in queste onde alte di una contemporaneità che ci dà scarsi riferimenti, è un po' il cuore, la traccia dell'Agosto De Gasperiano di quest'anno, molti di voi ormai lo sanno molto bene. Ci siamo immaginati quest'estate come naufraghi del Novecento, lasciate alle spalle tante certezze che avevano retto per alcune generazioni, noi ci siamo inadentrati verso un futuro che non riusciamo a toccare ancora con mano, che si nasconde dietro nuvole difficili da penetrare. E il mare della storia è un mare che non conosce i ritorni, non si può tornare indietro, si può solo cercare una strada, e forse in questo momento quella strada, o meglio quella rotta, facciamo un po' fatica a vederlo. L'Agosto De Gasperiano ha provato a copiare il gesto degli antichi marinai che in queste situazioni in cui non si trovava la rotta e non si trovava una terra verso cui andare, liberavano in volo degli uccelli e ne seguivano il volo. E lo sapete, se gli uccelli fossero tornati significava che la situazione non era proprio molto messa bene, perché la terra era lontana, e se invece gli uccelli non tornavano significava che la terra era vicina e che nella direzione presa dagli uccelli bisognava muoversi. Ecco, noi abbiamo cercato di fare la stessa cosa, di lanciare in alto il pensiero, di provare con l'aiuto di persone capaci di posare sguardi non banali sulla realtà, di vedere oltre le nuvole e cercare una rotta. Questo è un po' il senso del nostro percorso, che oggi trova compimento in una lezione speciale, che prende proprio di petto il tema delle inquietudini del nostro tempo. Ed è un grande onore poter ospitare qui, con voi, con così tante persone, una delle grandi menti del nostro tempo, il professore Umberto Galimberti, che tutti conoscete e che aspettate, lo so, con una certa trepidazione. E ecco, siamo davvero onorati e felici di chiudere questo lungo percorso, questa navigazione, con uno sguardo così sempre originale, a volte un po' eretico, spesso affilato, e capaci di dirci quello che a volte non vogliamo sentirci dire, ma che tutto sommato è in grado di metterci in qualche modo in cammino o in navigazione. A tutte e a tutti una buona serata e adesso lascio il palco al professore Umberto Galimberti. Allora, chi governa le luci dovrebbe farmi un favore abbassare un pochino questi fari e accenderli un po' in sala, perché non sono ancora in una condizione autistica e ho bisogno di parlare e di vedere in faccia la gente. Grazie. Allora, dunque, noi dobbiamo parlare delle inquietudini del nostro tempo. Sì, perché? Perché abbiamo smarrito un orizzonte stabile all'interno del quale la nostra vita aveva un orientamento. Orizzonti stabili erano tipici quelli dell'antichità. Qui possiamo arrivare tranquillamente alle radici dell'Occidente, che sono due, una è la radice greca, l'altra è la radice giudaico-cristiana, e per quanto differenti, abissalmente differenti, queste due visioni del mondo, entrambe però avevano un orizzonte stabile, un incanto del mondo, all'interno del quale l'uomo poteva muoversi e riperire un senso della sua vita. Per i greci ciò che era stabile era la natura. Eraclito dice alla natura, a proposito della natura, che nessun uomo, nessun Dio fece, quindi non è una creatura di Dio, nessun uomo, nessun Dio fece, sempre è stata, è e sarà, che si accende secondo misura e si spegne secondo misura. Il compito dell'uomo è catturare le leggi della natura in modo da costruire una città secondo la natura e una conduzione della vita secondo la natura. Il tempo della natura è un tempo ciclico. Per avere un'idea, pensate al tempo degli agricoltori, inverno, primavera, estate, autunno, poi il ciclo ricomincia. E chi aveva visto tanti cicli, che sono le persone anziane, possono insegnare a chi ne ha visti pochi, che sono i giovani, come ci si deve comportare e vivere. Nella natura l'uomo non esercita alcun potere, non è al vertice del creato, anche perché la natura nessuno l'ha creata per i greci. E pertanto, al pari di tutti i viventi, nasce, cresce, genera, muore. I greci prendono sul serio la morte. E infatti, pur avendo due parole per dire uomo, la parola antropos e la parola aner, non le usano quasi mai, usano sempre la parola senetos, da sanatos, che vuol dire mortale. L'uomo è mortale. Mortale significa che da qui nasce un'etica, l'etica dei greci, che è un'etica del limite. Se devi morire, sappi che la tua vita ha un limite. E questo limite si irradia, deve irradiarsi in tutto il tuo comportamento. Etica del limite è la condizione per cui tu puoi raggiungere la felicità. In greco la parola felicità si dice eudaimonia, e vuol dire bene, buona riuscita del tuo demone. Il demone è ciò per cui sei nato, la tua virtù, la tua qualità, ciò a cui sei portato. Prima di tutto conosci te stesso, per non farti ingannare, vedi di conoscere il tuo demone. Poi realizzalo. Questo è il primo precetto per essere felici. Il secondo precetto, più importante del primo, nel realizzare il tuo demone, realizzalo katametron, secondo misura. Magari sei un bravo scultore, ma non sei bravo come Fidia. E se pensi di superare Fidia, prepari la tua rovina. Quando sorge il problema della tecnica, i greci si pongono questo problema, mettono in scena la tragedia di Prometeo incatenato. A un certo punto il coro chiede a Prometeo, dimmi, è più forte la tecnica? O è più forte la necessità che vincola la natura alle sue leggi? E Prometeo risponde La tecnica è di gran lunga più debole, debole, astenia, debolezza, è di gran lunga più debole della necessità che vincola la natura alle sue leggi. A questo punto tutto è tranquillo, la natura continua ad essere lo sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio fece da cui trarre il modello della costruzione della città e della propria vita. Anche Sofoco le racconta sì certo, l'aratro fende la terra, ma la terra si ricompone dopo il suo passaggio. Anche la nave solca il mare, però la calma trasognata delle acque ricompone la quiete. Quindi tutto tranquillo. Il mondo aveva un senso dettato dalla natura e gli uomini sapevano come comportarsi secondo misura. Infatti i greci avevano incatenato Prometeo, il dio della tecnica. Noi l'abbiamo scatenato. Cominciamo a capire queste cose. Perché l'abbiamo scatenato? Perché? Perché noi siamo figli non della Grecia, ma siamo figli della tradizione giudaico-cristiana. Per la religione giudaico-cristiana la natura non è quella sfonda immutabile che nessun uomo, nessun dio fece, ma è una creatura di Dio e quindi è buona. Poi della natura fa anche disastri, i vulcani, gli tsunami, le frame. Beh, ma tutto questo è un problema dei cristiani che devono stabilire come mai la natura che è buona fa anche disastri. Però il problema grosso del cristianesimo è che nell'allontanare dal paradiso terrestre Adam ed Eva Dio dice ad Adamo dominarai sugli animali della terra, sui volatili del cielo, sui pesci delle acque marine. Dominarai. E qui nasce la cultura del dominio dell'uomo sulla natura. nasce quella figura tuttora dominante che si chiama antropocentrismo di derivazione cristiana perché il cristiano concepisce l'uomo come i mago dei, immagini di Dio che riceve da Dio il compito di dominare la natura. Pensate che anche nel 1500 quando nasce la scienza moderna Bacone dice che con la scienza e con la tecnica noi ridurremo le conseguenze del peccato originale. E quali sono le conseguenze? Dopo il peccato Dio annuncia ad Adamo guadagnerai il pane col sudore della fronte e alla donna garantisci il dolore. Partirei nel dolore. Bene, Bacone dice scienza e tecnica diminuiscono la fatica del lavoro diminuiscono il dolore e a questo punto concorrono alla redenzione. Quindi cominciamo a capire che le scienze tecniche non sono delle cose antitetiche al mondo cristiano ma sono la conseguenza rigorosa del mondo cristiano. la tradizione cristiana capovolge il senso del tempo non più ciclico non più ciclico ma storico. Cosa vuol dire storia? Quando il tempo è scritto in un disegno allora il tempo diventa storia i greci non avevano storia perché per loro il tempo non era altro che il ciclo della natura non c'era storia la parola storia viene dal greco istor istor è lo storico ma per loro istor istor in greco vuol dire colui che ha visto colui che ha visto allora erodoto tucidide che vengono considerati storici sono coloro che hanno visto erodoto racconta quello che ha visto quindi è un cronista non è uno storico tucidide dice io comincio le mie storie dieci anni prima dalla mia nascita perché prima non ho visto e non mi hanno riferito niente allora non c'è storia nella Grecia c'è ciclo il tempo è ciclo la storia nasce nella tradizione cristiana perché il tempo è inserito in un disegno dove alla fine si realizza quello che all'inizio era stato annunciato quindi il tempo ha un senso quindi anche il cristianesimo è in grado di dare un ordine al mondo ha un senso un senso che non conosce il limite greco perché il cristiano oltre a questa vita se ne aspetta un'altra questo è stato il successo del cristianesimo perché ha detto ai mortali non morirete mai questa configurazione di una vita oltre il tempo ha determinato un ottimismo radicale nell'Occidente l'Occidente senza troppi infingimenti diciamo è stata la civiltà più evoluta della storia grazie all'ottimismo immesso dal cristianesimo in questa cultura e qui dico chiaramente che il cristianesimo appartiene a tutti sia ai credenti sia agli atei sia agli agnostici sia a quelli che non credono in niente sia ai laici sono tutti cristiani dal mio punto di vista perché tutti pensano che il tempo futuro porti rimedio ai mali del presente animati dalla speranza questa categoria che giustamente Pasolini aveva tolto dal suo vocabolario perché dico questo perché perché dopo dopo questa vita c'è una salvezza siamo salvati dalla tragicità del mondo greco la tragedia non è un leggero letterario è la cifra della grecità perché tu se per vivere hai bisogno di costruire un senso in vista della morte che è l'implosione di ogni senso incipit tragoedia qui comincia la tragedia a cui però ti devi consegnare perché non sei un dio sei un uomo bene questa categoria del futuro come salvezza caratterizza tutte le espressioni culturali dell'occidente la scienza che siamo soliti contrapporre alla religione pensa allo stesso identico modo e come la religione pensa che il passato sia male peccato originale il presente è redenzione nel futuro salvezza la scienza pensa la stessa maniera il passato è male ignoranza il presente è ricerca il futuro è progresso cristianesimo laicizzato anche Marx è un grande cristiano penso che il passato sia negativo l'ingiustizia sociale il presente far esplodere le contraddizioni del capitalismo il futuro giustizia sulla terra anche Freud che scrive un libro contro la religione pensa che nevrosi traumi si nascono nel passato nell'infanzia nel presente terapia nel futuro guarigione tutti i cristiani in occidente e giustamente Gianni Baggett-Bosso che era un teologo molto intelligente molto di destra però eravamo molto amici anche se eravamo distanti dalla visione politica del mondo diceva sopravviverà l'occidente alla fine del cristianesimo? risposta no sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'occidente? risposta no no questa cultura muore insieme l'occidente muore insieme alla cultura cristiana e viceversa però l'ottimismo che il cristianesimo ha immesso nella cultura cristiana è enorme e nell'ordine della religione sarai salvo e nell'ordine della scienza progredisci e nell'ordine della sociologia giustizia sociale e nell'ordine della medicina guarigione sempre il futuro è sempre positivo se nonché un certo giorno Nietzsche dice che Dio è morto Dio è morto non vuol dire se Dio esiste o che non esiste questi non sono problemi seri Dio è morto vuol dire c'è ancora Dio fa mondo Dio il mondo accade come Dio vuole perché dire che uno è morto vuol dire che c'era un tempo che era vivo allora se facciamo riferimento per esempio al medioevo dove la letteratura parla di inferno purgatorio e paradiso dove l'arte è arte sacra persino la donna e donna angelo Dio esiste perché se tolgo la parola Dio dal mondo medievale non capisco niente di quell'epoca se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo lo capisco perfettamente ancora non lo capirei più se tolgessi la parola tecnica o la parola denaro quindi Dio è morto non fa più mondo e l'annuncio di Nietzsche non è un annuncio gioioso lui fa annunciare la morte di Dio dal folle quando voi avete una macchina in folle non andate ne avanti ne indietro restate fermi questo folle viene con una lanterna in pieno giorno eppure c'è il sole il sole nella metafora filosofica partire da Platone è il simbolo di Dio ma lui viene con una lanterna perché Dio è morto e i presenti che sono mercanti che sono atei che sono agnostici lo prendono in giro gli dicono è scappato? ha avuto paura di noi? è emigrato? e il folle dice no noi l'abbiamo ucciso noi abbiamo fatto il più grande dei delitti dove andiamo adesso noi ora? non abbiamo più un orizzonte non abbiamo più un alto e un basso andiamo precipitando in un infinito nulla che cosa sono diventate le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio beh se Dio è morto allora collassa che il futuro è una promessa collassa a livello più alto che il livello della vita eterna e di conseguenza anche tutto il resto gradatamente perde fiducia nel futuro io considero la parola speranza una parola della passività alla stessa maniera di quando uno dice speriamo quando i politici dicono speriamo auguriamoci auspichiamo sono tutte parole della passività stiamo fermi e il futuro porterà a rimedio no non è vero il futuro è un tempo come un altro solo che è depotenziato dalla dimensione della speranza perché abbiamo perso l'orizzonte cristiano dalla salvezza quello laico del progresso della giustizia sociale dalla guarigione e qui vediamo che sia il mondo greco sia il mondo giudaico cristiano avevano un orizzonte di senso per quanto differenti uno dall'altro sapevano come bisognava comportarsi e convivere perché c'era questo orizzonte questo orizzonte collassa nel 1600 quando nasce la scienza moderna che nonostante avesse questo sfondo cristiano capovolge il rapporto uomo-natura dice Cartesio mentre i greci contemplavano la natura allo scopo di catturare nelle leggi imparando dalla natura come ci si deve comportare noi uomini uomini di scienza naturalmente dobbiamo invertire il rapporto uomo-natura è catturato questo discorso perché è molto importante perché è un discorso che riguarda ancora oggi e precisamente ha fondato il metodo scientifico si inverte il rapporto uomo-natura nel senso che l'uomo di scienza anticipa delle ipotesi sottopone queste ipotesi a esperimento e se l'esperimento riesce si assumono le ipotesi formulate dall'uomo come leggi di natura a questo punto dice Cartesio l'uomo diventa maître possesseur della natura diventa signore padrone della natura e in ciò facendo non fa altro che obbedire al dettato evangelico giudaico dominerai solo che adesso abbiamo lo strumento per dominare che è la scienza moderna e la scienza è un grande dominio perché la scienza è un sapere oggettivo valido per tutti la cui sperimentazione è riproducibile ovunque da chiunque con il medesimo risultato però ancora l'età moderna ha un orizzonte di senso questo orizzonte di senso è costituito dalla ragione umana la ragione umana è in grado di ordinare il mondo donde dopo la scienza nasce l'illuminismo che invita ad abbandonare le superstizioni ad abbandonare le fedi ad abbandonare il senso comune ad abbandonare quello che si dice l'opinione corrente e a lavorare col proprio intelletto Kant dice sapere aude abbi il coraggio di usare la tua mente il tuo intelletto nasce alla ragione moderna la ragione moderna che ha trovato la sua anticipazione con Copernico il quale ha incominciato a stabilire che l'uomo non è al centro dell'universo perché non è il sole che gira intorno alla terra ma è la terra che gira intorno al sole rivoluzione copernicana e Kant utilizza questa espressione religione copernicana dicendo che con la nascita della scienza l'uomo si comporta nei confronti della natura non come uno scolaretto che beve tutto quello che dice il maestro ma come un giudice che obbliga l'imputato la natura a rispondere alle sue domande e se la natura risponde positivamente alla sperimentazione scientifica si assumono le ipotesi dell'uomo come leggi di natura leggi eterne no finché non se ne formano di nuove e di più comprensive l'uomo diventa effettivamente padrone e signore della natura cioè al mezzo di farlo mentre prima aveva solo l'attenzione a farlo nell'ottocento si comincia a sgretolare l'orizzonte giudaico cristiano e quindi il senso costruito all'interno di questo orizzonte e comincia a Darwin a dire che l'uomo non è i mago dei ma probabilmente un derivato dall'ordine dei primati prosegue Freud a scardinare il concetto di coscienza quello che noi chiamiamo coscienza non è altro che il risultato delle nostre pulsioni inconsce quello che chiamiamo la nostra libertà le scelte dell'io che non è padrone in casa propria dice Freud non sono altro che le pulsioni inconsce che ci determinano prosegue Nietzsche che dice che non c'è alcuna verità dice io sono alla ricerca di un filosofo medico medico interessante questo medico inteso la salute di un popolo di una razza di un'umanità porti al culmine il mio sospetto che in ogni filosofia non si è mai parlato di verità ma sotto quel nome si è inteso avvenire sviluppo potenza vita cioè diventava vero quello che serviva alla vita quindi la verità non è uno statuto teorico che si contempla come nel mondo greco e come nel mondo giudaico cristiano che era la parola di Dio no vero è ciò che serve a vivere ciò che è efficace ciò che funziona questo sta dicendo Nietzsche ecco l'età moderne comincia a scricchiolare nel novecento grazie alla fisica Ernst Mach incomincia a dire che l'universo non è un assoluto come pensava la fisica di Newton Newton aveva chiamato l'universo addirittura sensorium dei e siccome Dio pensa come l'uomo pensa quando conosce Dio conosce più cose dell'uomo ma il modo di conoscerlo è uguale questo modo è il modo matematico Hilbert dice che la matematica va rifondata nei suoi fondamenti bisogna costruire una metamatematica perché non si è più in grado con gli strumenti della matematica di spiegare una struttura fisica microcosmica Planck mette in circolazione la fisica quantica che manda in soffitto la fisica galileiana oggi Galileo non è uno scienziato appartiene alla storia della scienza si regredisce alla storia della scienza si rientra nella storia ma la fisica galileiana non funziona più non funziona più per la fisica quantica poi Einstein che stabilisce un'equivalenza tra materia ed energia anche questo è sconvolgente poi Heisenberg dice che noi non possiamo vedere dove si trova una particella subatomica perché le condizioni che noi utilizziamo per individuarla modificano continuamente la sua posizione quindi abbiamo una impossibilità di conoscere la posizione di una particella subatomica ma il crollo definitivo dell'età moderna la dà il nazismo il motto dell'età moderna la linea guida dell'età moderna era chi pensa bene fai il bene il nazismo ha dimostrato che si può pensare in maniera eccellente anche il male a questo punto la ragione moderna finisce l'età moderna finisce con il nazismo e si entra in quello scenario del tutto nuovo che viene chiamato età post moderna che io chiamo età della tecnica attenzione bene è finito l'ordine del mondo greco è finito l'ordine del mondo cristiano è finito l'ordine del mondo dell'età moderna cioè il primato della ragione umana apre e chiudo una parentesi oggi si parla di intelligenza artificiale quindi anche la ragione umana si ribadisce come inferiore e subordinata all'intelligenza artificiale che è anonima che non è più umana capito bene? l'uomo non è più padrone del proprio universo anche voi quando fare un esempio dei primordi di questa intelligenza artificiale non so quando hanno studiato di voi i vostri micro comportamenti i micro bisogni i micro desideri li hanno collocati in un big data e da lì un algoritmo rimodulandoli ha fatto di voi un profilo quel profilo non dice chi siete dice a cosa servite anche la vostra identità viene resa significativa solo in termini di funzionalità dell'apparato che vi convoca queste cose le capite chi va a lavorare lo sa entriamo nella età della tecnica cos'è la tecnica? è la forma più alta di razionalità finora mai raggiunta dall'uomo la formula è molto semplice raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi i suoi valori i suoi valori sono efficienza produttività funzionalità velocizzazione del tempo la velocizzazione del tempo ha già superato la temporalità psichica di ciascuno di noi lo stress contemporaneo non è dovuto anche a un grande affare che dobbiamo fare ma la velocità con cui la dobbiamo fare che ha superato la nostra capacità psichica di questa velocizzazione comunque la tecnica questa sua razionalità la tecnica ce l'ha in comune anche con il mercato però il mercato ha ancora un tratto umano tutto sommato ha ancora una passione umana che è la passione per il denaro da cui la tecnica è del tutto esonerata la tecnica qui devo spero che riusciate a capire che non è più un mezzo perché si sente dire che la tecnica è buona o cattiva secondo dell'uso che se ne fa ma stiamo scherzando la tecnica la tecnica buona o cattiva a secondo dell'uso la tecnica non è un mezzo che si usa la tecnica è un mondo e il concetto di mezzo è diverso dal concetto di mondo e quando la tecnica è diventata un mondo io colloco sempre questo evento in occasione dell'epoca nazista e subito dopo perché questa razionalità non la dovete il mondo tecnico non la dovete pensare quando subentrano le macchine le grandi fabbriche le automobili lì siamo ancora in pieno umanesimo anzi l'umanesimo era così profondo e così radicato che si pensava addirittura che un uomo potesse risolvere i problemi di tutti noi che si chiamasse Mussolini che si chiamasse Hitler che si chiamasse Stalin quello è il trionfo dell'umanesimo poi basta crolla tutto con la fine del nazismo crolla tutto crolla tutto perché viene questa ragione impersonale che si fa carico dai destini degli umani tant'è che Michel Foucault non chiamava la postmodernità postmodernità ma ipermodernità se la modernità era regolata dalla ragione qui ci troviamo in un contesto di iper anche una razionalità addirittura disumanizzata che prescinde dall'umano bene chi aveva intuito queste cose per prima? Hegel che nel 1916 scrive in un libro di logica due cose molto interessanti la prima stabilisce che la ricchezza delle nazioni non è come diceva Adam Schmitt Adam Schmitt era quello che aveva scritto il primo libro di economia politica nel 1779 intitolato sull'origine e la natura della ricchezza delle nazioni e aveva stabilito che la ricchezza delle nazioni consistevano nei beni Hegel dice no non è più così 40 anni dopo smonta questo trattato dice non è più così perché mentre i beni si consumano la ricchezza si è esposta dal bene allo strumento perché lo strumento produce i beni mentre i beni si consumano e allora chi possiede gli strumenti è più ricco di chi possiede i beni quindi aveva già capito 1816 i filosofi sono anche un po' profetici ma siccome la filosofia verrà eliminata dalle scuole perché la competenza lo studio il pensiero sono sempre figure antitetiche al potere al potere piacciono le bestie piace il greggio come dice giustamente Nietzsche quando l'umanità diventa greggio vuole l'animale capo così sparirà la filosofia così come sparirà il greco sempre in base al principio a cosa serve? sì magari pensare qualche volta serve anzi se avessimo pensate che gli italiani l'ha detto Lox nel 1821 il 70% degli italiani sa leggere e non capisce cosa legge bella prospettiva per il futuro no? sa leggere ma non capisce cosa legge e quest'anno le prove invalse di quelli che sono usciti dalla terza media uno su due promossi naturalmente non capiscono cosa leggono però sono promossi e guardando avanti a questi livelli culturali c'è da stare allegri comunque andiamo avanti il secondo argomento invece che usa Hegel sempre in quelle pagine dice attenzione che quando un fenomeno aumenta quantitativamente sto parlando di quantità non abbiamo solo un aumento quantitativo di un fenomeno ma abbiamo anche un mutamento qualitativo radicale del paesaggio cioè l'aumento della quantità modifica la qualità del paesaggio se qui viene un terremoto di due gradi della scala Mercalli magari non ce ne accorgiamo ma se aumenta quantitativamente la scossa fino al nove gradi della scala Mercalli questo teatro non c'è più il paesaggio è cambiato è un cumulo di macerie si capisce questo ragionamento? bene il primo a usarlo è stato Marx il quale ha detto tutti pensano che il denaro sia un mezzo un mezzo per soddisfare i bisogni e per produrre i beni ma se il denaro aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e produrre qualsiasi bene il denaro non è più un mezzo ma è il primo fine che subordina a sé quelli che prima erano i fini nel senso che se diventa il primo fine si vedrà poi se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni bisogni e beni diventano mezzi per produrre denaro è quello che in filosofia si chiama eterogenesi dei fini quando quello che era un mezzo quando era una cosa modesta aumentato diventa un fine e quelli che erano i fini soddisfare i bisogni e produrre i beni diventano mezzi per produrre denaro perché se non producono denaro i bisogni non si soddisfano e i beni si producono limitatamente la quantità di denaro che sono in grado di generare capovolgimento radicale se noi utilizziamo questo argomento a proposito della tecnica se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo la tecnica non è più un mezzo ma è il primo scopo che subordina a sé tutti gli altri non so se vi siete dati una spiegazione perché l'Unione Sovietica è crollata nel 1989 e non nel 1960 qual era lo scopo dell'Unione Sovietica? l'egemonia del comunismo egemonia anche fuori dall'Unione Sovietica nel controllo degli altri stati perché nel 1960 la tecnica sovietica era molto più avanzata della tecnica del suo antagonista che era il capitalismo americano infatti quelli vecchi come me ricorderanno che nel 1960 l'Unione Sovietica è stata la prima a mandare lo Sputnik nello spazio quando gli americani non erano ancora capaci a quel punto il fine l'egemonia del comunismo rimane quando nel 1989 Gorbachev incontra Reagan nella capitale dell'Islanda e gli chiede di non fare il sistema stellare di controllo perché l'Unione Sovietica non aveva una tecnica sufficiente per andare a parare questo sistema stellare di controllo denuncia che la tecnica sovietica è ad un livello infinitamente inferiore alla tecnica americana a quel punto il fine l'egemonia del comunismo collassa punto non andiamo a cercare la fine della storia nel fatto che la popolazione dell'Unione Sovietica non aveva da mangiare oppure era controllata oppure non poteva uscire oppure c'era un papa che era anticomunista visceralmente quindi è riuscito a liberare i satelliti dell'Europa orientale dallo scarpone sovietico no non sono mai queste storie umanistiche che spiegano le trasformazioni della storia il problema è l'insufficienza tecnica che abolisce lo scopo nella partispecie l'ecemonia comunista a questo punto cosa fa la tecnica la tecnica mette in gioco non abbiamo più un orientamento di cui nasce la nostra inquietudine perché? perché la tecnica mette fuori gioco la politica subito da subito immediatamente senza reticenza e senza esitazione la politica è stata inventata da Platone Platone l'aveva definita basilica tecnica regia perché dice mentre le tecniche sanno come si devono fare le cose la politica sa se e perché si devono fare quindi il potere decisionale spetta la politica è ancora vero questo? no non è più vero perché oggi la politica per decidere guarda l'economia quindi c'è già stata una trasmigrazione del potere decisionale dalla politica all'economia e l'economia per decidere ha il monopolio della decisione? no perché la politica l'economia per decidere guarda le risorse tecnologiche ma la tecnica non ha scopi non ha scopi non dischiude l'orizzonte di senso ecco qui l'inquietudine che comincia ad annunciarsi non ha scopi non dischiude l'orizzonte di senso non apre il scenario di salvezza non dice la verità una categoria che non gli appartiene la tecnica funziona e come diceva giustamente Martin Heidegger nel 1968 intervistata da direttore di Dr. Spiegel che gli chiedeva un parere sulla tecnica Martin Heidegger diceva la tecnica tutto funziona questo è l'inquietante che tutto funziona e il funzionare induce ad un ulteriore funzionare e gli scopi che raggiungono sono apprezzabili solo se diventano mezzi per altri scopi quali a loro volta sono apprezzabili se diventano mezzi per ulteriore funzionamento non so se lei dice Heidegger al direttore di Dr. Spiegel è stato impressionato quando l'uomo è andato sulla luna io sì dice Heidegger non abbiamo bisogno della bomba atomica per sradicare l'uomo dalla terra l'uomo è già sradicato perché non abita più la terra ma solo il mondo della tecnica 1968 non c'era ancora l'informatica non c'era ancora l'intelligenza artificiale ma è bene che la filosofia non si studi nei licei è bene che non si studi nei licei anche se i filosofi sono anche un po' profeti io non lo sono ma loro sì i grandi filosofi annunciano quello che accadrà ma siccome alla gente non piace l'annuncio perché se l'annuncio gli toglie la speranza viene subito rifiutato questo tipo di pensiero e allora meglio tacere e non dire queste cose ma queste cose lui le ha dette nel 1968 anche perché lui era un filosofo abbastanza vicino al nazismo e quindi aveva intuito che da lì è nata la cultura della tecnica la politica la democrazia anche la democrazia l'ha inventato Platone democrazia è una parola greca demos vuol dire popolo kratos vuol dire potere potere al popolo cioè il popolo che deve decidere ma dice Platone affinché il popolo deve decidere deve anche comprendere le questioni intorno a cui deve decidere ma se è ignorante come sono ignorante il popolo dell'atenese bisogna fare tanta paideia prima di introdurre la democrazia tanta educazione oggi noi diremmo è tanta scuola che è ridotta a livelli da far paura la scuola italiana perché è una scuola che al massimo istruisce ma non educa non educa per ragioni oggettive e soggettive ma non sto a fare un discorso sulla scuola ecco bisogna educare perché perché altrimenti le decisioni avvengono su base irrazionale dice Platone non perché si conosce l'argomento ma perché si lascia influenzare dall'opinione corrente perché si ascolta gli sofisti che ingannano la gente con falsi silogismi con falsi informazioni con paralogismi oppure si ascoltano i retori che incantano la gente con una mozione degli affetti perché l'oratoria trascina mentre per decidere devi conoscere se non conosci la democrazia è impraticabile quindi è bene dice Platone che la città sia governata dai migliori gli aristoi quelli che noi potremmo chiamare governi tecnici noi ne avevamo uno abbiamo buttato via ci siamo presi ci siamo presi un altro non aggiungo altro va bene la democrazia è impraticabile nell'età della tecnica perché la tecnica pone sul tavolo dei problemi che trascendono la competenza media di ciascuno di noi se vi dicono apriamo o non apriamo le centrali nucleari oppure apriamo pratichiamo o non pratichiamo gli organismi geneticamente modificanti beh per decidere il suo primo caso dovrei essere un fisico un fisico nucleare per decidere nel secondo caso dovrei essere un genotista o un biologo molecolare siccome non sono né uno né l'altro come faccio a decidere decido su base irrazionale se appartengo a una religione ascolto quello che dice il capo della mia religione se appartengo a un partito ascolto quello che mi dice il mio partito se non appartengo né l'uno né l'altra cosa ascolto quel personaggio dell'evisivo che a me mi piace faccio come dice lui quali è molto chiaro dice le cose precise con uno slogan in una società complessa è comodissimo avere uno slogan che ti dà la fiducia di poter uscire dalle situazioni no? gli slogan non servono a niente ma persuadono molto stile sofisti pensate che su 34 dialoghi che ci ha lasciato Platone 14 sono contro il retro dei sofisti perché finché ci sono loro non ci sarà la democrazia pensateci va bene andiamo avanti e allora che cosa c'è? allora bisogna rifarsi a quella fascia intermedia tra l'ignoranza popolare e il potere che è un alleato dell'ignoranza quando l'umanità diventa grege vuole l'animale capo perché il potere sta in piedi con la complicità dei subordinati esattamente come il potere maschile sta in piedi con la subordinazione con la complicità della subordinazione femminile attenzione bene non crediate che le donne musulmane soffrono dalla condizione in cui si trovano noi soffriamo a vederle però c'è anche sempre una complicità del potere con chi lo accetta c'è sempre una complicità se non lo sta in piedi il potere allora queste fasce intermedie non so se ve le ricordate in epoca covid quando il potere continuava a dileggiare gli epidemiologi i genetisti e tutta questa gente vi ricordate che o come li dileggiava perché perché ciascuno aveva un parere diverso dall'altro ma conosciamo o non conosciamo il sistema scientifico il metodo scientifico io avanzo un'ipotesi la verifico tu ne avanzi un'altra diverso dalla mia e la verifichi quell'altro ne avanza un'altra perché la scienza va avanti per prove ed errori se poi la mia ipotesi non trovo riscontro nell'esperimento l'abbandono e mi adigo a quello la cui ipotesi ha trovato riscontro nell'esperimento questo è la scienza quindi non devi sghignazzare quando tutti i pareri sono diversi siamo all'inizio della ricerca poi si conviene quando i risultati ci sono vi ho detto prima che la scienza è il sapere oggettivo valido per tutti la sperimentazione riproducibile ovunque da chiunque con il medesimo risultato però c'erano i novax chi sono i novax quelli che la loro opinione conta di più dal dato oggettivo della scienza e questo è complice il potere il potere ci affida loro perché si affida loro? perché tagliano fuori la competenza ma fuori dalla competenza la democrazia muore guardate che paesi democratici nel mondo sono solo il 20% dell'umanità l'80% sono dittature e autocrazie e la democrazia anche da noi non è che sta tanto bene perdiamo quella e poi abbiamo perso tutta la nostra tradizione che nasce da Platone che è inventato politica da polis città e democrazia stiamo attenti poi poi l'etica l'etica sta ancora peggio della politica ditemi un po' come fa la tecnica a chiedere all'etica che può no come fa l'etica a chiedere la tecnica che può di non fare ciò che può come si fa a impedire a chi può di non fare ciò che può può solo implorare e nel momento in cui implora l'etica diventa patetica pat-tratino etica patetica anche la politica diventa patetica noi abbiamo conosciuto sostanzialmente tre etiche in occidente e qui non abbiamo dunque di politica non abbiamo più di democrazia andiamo a qualcosa di molto vacillante e voglio vedere che non siamo inquieti in questo contesto non abbiamo più un ordine del mondo seguito da tutti non abbiamo più una direzione non abbiamo più un reperimento di senso la religione l'etica cristiana è stata una grande etica che anche se siamo diventati tutti agnostici e ate e miscredenti continua ancora perfettamente nell'ordine giuridico io non so se gli avvocati e i magistrati sono consapevoli di essere attuatori dell'ordine cristiano della salvezza quando io andavo da catechismo da piccolo mi hanno insegnato che per fare peccato mortale ci vuole piena avvertenza e deliberato consenso cioè devi sapere quel che fai e devi volerlo fare e allora l'ordine giuridico come funziona? se tu uccidi qualcuno se avevi intenzione di ucciderlo e volevi ucciderlo sei colpevole se invece è capitato di ucciderlo ma non avevi intenzione e è preso sotto con una macchina spogelito colposo oppure intenzionale oppure pretro intenzionale sentite quanto quanto cascame della cultura teologica cristiana c'è nell'ordine giuridico dice Max Weber l'etica dell'intenzione è un'etica della tecnica non serve a niente primo perché è difficilissimo capire le intenzioni che stanno nell'interiorità dell'uomo come fai a scrutarle secondo perché non è di nessun interesse sapere per esempio che intenzione aveva Oppenheimer o Fermi che intenzione avevano quando hanno inventato la bomba atomica molto più interessante è conoscere gli effetti della bomba atomica più che le intenzioni che promuovono l'azione è molto più interessante conoscere gli effetti di quella azione e sarà Max Weber a dire che l'etica cristiana dell'intenzione non funziona più Max Weber è stato il più grande sociologo del novecento un sociologo di stampo liberale molto intelligente io dico questi nomi ma so che piovono nel deserto non per colpa vostra ma perché la scuola non le racconta più queste storie semmai le ha raccontate prima andiamo avanti poi c'è l'etica di Kant Kant dice tutte le etiche scendono dalle religioni ma siccome gli umani hanno religioni tutto diverse bisogna costruire un'etica che prescinda dalle religioni e che sia fondata sulla pura ragione intenzione perfetta sarebbe bellissimo dalla pura ragione poi formula quest'etica con quella frase bellissima in sé che dice l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo è un'etica che non si è mai realizzata se un immigrato viene da noi il fatto che sia un uomo non consente di trattarlo come un fine se però serve per produrre profitto allora sì allora lo accogliamo come mezzo lo accogliamo come fine non ci interessa l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo e ma qui Kant non si accorge che sta ribadendo semplicemente il concetto cristiano dell'uomo che ha il vertice del create quindi un fine il mago dei e tutto il resto è un mezzo al servizio dell'uomo domanda nell'età della tecnica è possibile trattare l'uomo come un fine e tutto il resto un mezzo l'aria è un mezzo o un fine da salvaguardare l'acqua è un mezzo o un fine da salvaguardare e la flora e la fauna e l'atmosfera e la biosfera sono tutti mezzi? no non sono mezzi Kant poteva dire quello che ha detto perché all'epoca sua siamo alla fine del settecento seconda metà del settecento il mondo aveva ottocento milioni di abitanti adesso siamo a otto miliardi cambia ci accorgiamo dei cambiamenti possiamo mantenere delle espressioni o dei precetti slegandoli dall'elemento quantitativo come diceva giustamente Hegel che determina variazioni qualitative nell'ordine del mondo da ultimo abbiamo l'espressione abbiamo l'etica che ha introdotto Max Weber di cui vi accennavo prima Max Weber dice che non ci interessano le intenzioni che sono negli uomini primo perché è difficile sfruttare cosa c'è nell'intenzione degli uomini secondo bisogna responsabilizzare gli uomini quindi inventa l'etica della responsabilità Ferrand Bortung Sertic l'etica della responsabilità che sta a significare che tu rispondi degli effetti delle tue azioni non mi interessa come la pensavi effetti della tua azione rispondi ecco responsabilità degli effetti delle tue azioni però siccome è intelligente apre una parentesi e dice finché gli effetti siano prevedibili chiuso la parentesi questa parentesi è il fondamento della nostra inquietudine perché scienza e tecnica non producono effetti prevedibili io non so cosa pensate voi di come funziona la scienza e la tecnica dunque queste due parole e poi bisognerebbe anche sintetizzarle parlare semplicemente di tecno scienza smontare quel concetto secondo cui la scienza è pura e la tecnica è buona o cattiva secondo dell'uso che se ne fa la tecnica non è una conseguenza della scienza non è un'applicazione della scienza la tecnica è l'anima dello sguardo scientifico perché lo scienziato non guarda il mondo per contemplarlo lo scienziato guarda il mondo per manipolarlo ma anche nel bene mica 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 sto dicendo niente ma lo sguardo scientifico non è innocente non è contemplativo ha in vista la trasformazione ha in vista la manipolazione quindi lo sguardo è già tecnico non so sarebbe come se in un bosco andasse un poeta e un falegname poeta tra il spunto per le sue poesie mentre il falegname pensa subito a tavoli sedi armadi è la qualità dello sguardo che decide la natura della scienza lo sguardo scientifico è già tecnico bene la tecnoscienza non procede nella maniera che pensiamo noi e a cui ci ho abituato anche la modalità con cui ci chiedono i soldi per finanziare le ricerche scientifiche fanno bene a fare questi discorsi perché sanno che noi pensiamo in modo finalistico c'è il cancro ricerca sul cancro datemi i soldi che facciamo la ricerca ma la scienza non funziona così funziona la scienza funziona in un altro modo tu studi per una quindicina d'anni questo neurotrasmettitore tu per una decina d'anni questa cellula tu per un'altra dozzina d'anni studi questa molecola se poi da questi studi che non sono tre naturalmente ma sono almeno 300 tanti sono licenziati ad altissimo livello nel mondo se poi da questa combinazione salta fuori qualcosa di utile ben trovato se invece non salta fuori niente abbiamo perso tempo non abbiamo trovato niente cioè quello che noi consideriamo il fine sono risultati di procedure capito riuscite o non riuscite casuali e allora a questo punto non possiamo neanche la logica neanche l'etica di Max Weber va bene giudicare le azioni degli uomini a partire dagli effetti delle loro azioni se proprio la tecnoscienza sfugge il controllo di questi effetti e noi oggi siamo nella condizione che il nostro sapere di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare a questo siamo arrivati non so se questo vi inquieta ma inquieta molto la nostra capacità di fare supera di gran lunga la nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare e se gli antichi avevano il terrore dell'imprevedibile e cercavano attraverso riti miti esorcismi di contenere l'imprevedibilità che non era controllabile per noi l'imprevedibile non è determinato da un difetto di conoscenza per noi l'imprevedibile è determinato da un eccesso della nostra capacità di fare rispetto alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare per cui il problema non è che cosa possiamo fare noi con la tecnica ma che cosa la tecnica può fare di noi se questo non vi inquieta perché è fuori dal vostro controllo ormai se siete stati voi a scegliere i cellulari oppure la scoperta dei cellulari la scoperta dei computer ha fatto sì che la comunicazione avvenisse attraverso questi strumenti dove tutti si dovevano adeguare una volta accompagnando mio nipotino a scuola ho incontrato una signora che mi ha riconosciuto mi ha detto professore mio bambino fa la quarta elementare vuole uno smartphone e gli ho detto glielo dia ma perché mi dice così è ovvio non è che lo sta privando di un mezzo tecnico lei sta privando il suo figlio dalla socializzazione perché se i ragazzi parlano attraverso quello e lui non ce l'ha con chi parla ma l'ha scelto lui no è la tecnica che mette a disposizione delle cose da cui non si può più prescindere non avete scelto voi di comunicare così i vostri nonni non comunicavano così comunicavano con il corpo parlavano uno di fronte all'altro adesso i ragazzi non vivono più nel mondo vivono nel mondo allestito per loro da questi mezzi non guardano più in faccia guardano così ma me l'hanno detto loro una volta cercavo delle sigarette trenavo l'accendino loro mi hanno detto guardi che c'è lì quella ragazza che sta fumando sono andato là mi ha dato l'accendino e l'ho restituito ma lei me l'ha dato senza neanche guardarmi ho chiesto a loro ma non guardate più in faccia e loro mi hanno risposto caro professore noi no non guardiamo più in faccia noi guardiamo così oh queste sono trasformazioni antropologiche non da poco non vi parlo delle patologie della tecnica perché se no dopo andate a casa troppo depresse mi basta questo livello di depressione poi a questo punto a questo punto noi ci troviamo ho parlato prima del parlato prima del la responsabilità chi ha tolto la responsabilità noi voi pensate di essere responsabili ma di che cosa siete responsabili di quello che fate o di come lo fate perché di quello che fate lo decide l'apparato di appartenenza cosa dovete fare e ve lo decide l'apparato di appartenenza il vostro problema è come seguite le regole della tecnica che sono efficienza produttività funzionalità velocizzazione del tempo non importa quello che fate quello che fate non vi riguarda chi ha inventato questa logica Gunther Anders un allievo di Heidegger ha scritto nel 1948 quando è emigrato dal no era emigrato prima naturalmente per evitare le persecuzioni naziste perché era ebreo Gunther Anders è il marito di Anna Arendt per dieci anni tempo che Anna Arendt imparasse tutto quello che ha scritto e Gunther Anders quando è andato a lavorare alla Ford per mantenersi ha scritto al suo maestro che era Heidegger che gli ha detto maestro lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere io qui alla Ford invece sono il pastore delle macchine e nel rapporto uomo-macchina la guida è già passata la macchina bene Gunther Anders dice che l'età della tecnica non è altro che l'esplosione del modello nazista il modello nazista cosa prevede ve lo racconto con un episodio che è quello lascio perdere tutti i passaggi che fa molto intelligente che fa Gunther Anders per non annoiarvi il modello nazista prevede prevede quello che è capitato a Gittà Sereni una giornalista che ha interrogato Franz Stangl che era il direttore del campo di concentramento di Treblinka e per 70 volte quanto sono queste interviste che oggi sono raccolte in un bel libro edito da Adelfi intitolato In quelle tenebre gli chiede per 70 volte cosa provava a fare quello che faceva Franz Stangl non risponde mai a questa domanda a un certo punto a Gittà Sereni viene intuizione e dice ma vuoi vedere che Franz Stangl non risponde non perché si vergogna ma perché non capisce la domanda capite cosa vuol dire non capire la domanda a un certo punto Franz Stangl risponde ma scusi perché lei mi chiede cosa provavo io non ero incaricato di provare qualcosa io ero incaricato di far funzionare il sistema e siccome il sistema prevedeva la soppressione di 5.000 persone entro le 11 del mattino di 3.000 persone entro le 5 del pomeriggio e il giorno dopo doveva essere tutto pronto per l'ulteriore ripetizione di questo evento io che garantivo perfettamente l'ordine e l'esecuzione di queste cose ero un ottimo funzionario cioè quello che fai non dipende da te e come lo fai dove tu sei giudicato credete che sia diverso l'età della tecnica se un capovare di una banca dice ai suoi funzionari abbiamo la banca piena di titoli deteriorati vendetene mille al mese ciascuno il funzionario può provare qualcosa conto molto o vende o è licenziato punto a Brescia si costruiscono le mine anti uomo sono i più gravi al mondo in quella costruzione di questi ordini chi è bravo operaio chi su 100 che ne fa almeno 99 saltano per aria perché se ne saltano solo 50 non è un bravo operaio capite dove si è spostato il bene e il male non in quello che fai ma come lo fai perché quello che fai dipende dall'apparato e non pensiate che le cose siano diversi in scenari molto più semplici ho sentito un congresso di cardiologia un cardiologo americano che tutti ritenevano essere il numero uno al mondo il quale diceva guardate che i pazienti si collocano in una curva di Gauss curva di Gauss un semicerchio come un ponte bisogna spiegare anche queste cose madonna bisogna spiegarle bisogna spiegarle queste cose la furva di Gauss immaginate un semicerchio bene lui diceva quando andate in ospedale voi avete delle malattie serie si applica il protocollo ma questo medico diceva che il protocollo applicato a quelli che stanno in mezzo che sono i più li guarisce ma se lo applicate a chi sta all'inizio per la sua patologia o chi sta alla fine rischiate di ammazzarlo allora io faccio il medico supponiamo applico il protocollo quelli che sono all'inizio e alla fine mi muoiono tutti ma io sono a posto applicato il protocollo il medico che cerca di salvarne qualcuno magari qualche volta ci riesce qualche volta però gli muore il paziente ma non ha applicato il protocollo rischia il posto capite cosa vuol dire nazismo quello è il modellino dell'età della tecnica il professore che fa per bene il programma ministeriale e non guarda mai in faccia i suoi studenti neanche gli sfiora l'idea che abbiano quel periodo che si chiama adolescenza qualità incerta piena di subbulli interiori lui ha il programma ministeriale e lo fa e lo fa fino in fondo lui ha fatto bene e chi invece ha parlato con gli studenti si è sporcato le mani nella loro vicenda psicologica e non ha finito i programmi ministeriali rischia il posto è vero o non è vero che è così io vado in posto perché non sono capace di pagare le bollette online vado là con la mia bolletta e vedo che ci sono delle vecchiette che chiedono spiegazioni le impiegate le impiegate almeno dove vado io sono molto gentili e rispondono dopo un po' però si fa la coda e devono chiudere il discorso come lo chiudono? vede signora io risolverei i suoi problemi ma questi sono problemi che non sono di mia competenza trans stangle capite cos'è l'età della tecnica? dove l'apparato decide il contenuto della tua attività e tu devi eseguire le azioni descritte e prescritte dall'apparato secondo i valori della tecnica efficienza produttività funzionalità velocizzazione del tempo sei fuori da questo scenario? via anche i rapporti di lavoro diventano una volta si erano tutti compagni di lavoro adesso anche a livello impiegatizio io c'ho la mia scrivania una volta eravamo amici adesso ci si osserva reciprocamente perché se lei è più bravo più veloce di me il primo a rischiare in un momento di crisi sono io quindi una diffidenza anche nell'ambito lavorativo ma non perché la tecnica è cattiva la tecnica è questa non puoi dare un giudizio morale sulla tecnica è questo va bene e allora siamo entrati in quello che si chiama dal mio punto di vista lo spaesamento se qualche vi ho detto vi rispondo in qualche maniera lo spaesamento è che la vostra identità non ce l'avete voi più la vostra identità ve la dà l'apparato perché se l'apparato vi fa aumentare in carriera vi robustisce la vostra identità se l'apparato vi mette da parte vi fa il mobbing allora nasce la demotivazione la depressione al limite anche il gesto estremo e dov'è la vostra identità? è nelle mani dell'apparato e voi dovete recitare il vostro ruolo ruolo una parola latina che viene da rotulum era il rotolo che si svolgeva davanti agli attori i quali leggevano la loro parte ecco voi nei vostri apparati lavorativi che facciate gli insegnanti i medici i scienziati dovete leggere il vostro rotulum eseguire le azioni descritte e frescritte dall'apparato la verità ma la verità ormai non è più uno statuto teorico non è più la parola di Dio non è più l'ordine della natura erano orientati gli antichi gli antichi avevano un orizzonte di senso la verità è diventata efficace è vero è ciò che è efficace ciò che ha effetti di realtà ciò che fa succedere le cose è quello che si chiama i risultati se non produci i risultati via questa è la verità l'ideologia le ideologie sono finite tutte perché l'ideologia l'ideologia è disfunzionale alla tecnica perché la tecnica non vuole ideologie non discute chi è povero chi è ricco chi è nobile chi è diseredato non gli interessano queste cose non gli interessa la divisione della società secondo le ideologie perché il suo funzionamento verrebbe intralciato dai problemi ideologici infatti sono crollate tutte non perché è crollato il comunismo oggi la sinistra si trova in queste condizioni non perché perché c'è la tecnica la tecnica ha introdotto una morale ben più cogente della morale abituale perché quando tu facevi un peccato commettevi un peccato appunto c'era sempre il perdono mentre la tecnica ha una morale molto più stringente se non sei efficiente vai fuori ma se vai fuori dall'apparato tecnico visto che la tecnica è un mondo sei fuori dal mondo la tecnica ha già invaso la società ha già costituito una modalità di comunicazione di organizzazione di relazioni e noi ci troviamo in questo mondo non in quello naturale la religione la religione non è che crolla perché la gente non vuole più in chiesa la religione crolla perché la nostra psiche non è più capace di pensare i tempi lunghi i tempi dove alla fine si realizza quello che all'inizio era stato annunciato perché la nostra psiche allenata dalla tecnica conosce il tempo breve quello che intercorre tra il mezzo che ho a disposizione e il fine che devo raggiungere un tempo brevissimo recente passato immediato futuro non tempi lunghi scatologici cioè se io ci sono tante case voglio la casa ma non ho i soldi l'inadeguatezza del mezzo fa sì che lo scopo diventi un sogno oppure io ho i soldi ma non ci sono le case e allora quello non è un mezzo per acquistare la casa perché non c'è la casa allora il tempo della tecnica è ravvicinare moltissimo mezzi e scopi mezzi e scopi mezzo e scopi il quale scopo diventa mezzo di un altro mezzo e via avanti un tempo breve che viene introiettato dentro di noi viene introiettato dentro di noi perché oltre all'inconscio sociale che è ben descritto da Freud oltre all'inconscio pulsionale sempre ben descritto da Freud io sono convinto che ormai dentro di noi lavora anche un inconscio tecnologico c'è gente che si alza di notte per vedere se è arrivata una mail gente che non ha più la capacità di reggere la distanza gente che diventa paranoica usa le app per vedere dove sono le figure care che vuole controllare gente che ha l'angoscia dell'anonimato e allora sul treno deve parlare forte per far sapere che è importante al telefono in modo che tutti lo sappiano gente che come suona il telefono risponde immediatamente togliendosi dal contesto in cui si viene a trovare e se non rispondete non è che potete dire ogni volta che non c'era campo o che eravate sotto una galleria prima o poi dovevate rispondere c'è un bravo psicologo che non mi ricordo mai come si chiama di nome che ha scritto un bel libro sulle patologie da cellulare che dice che non trova particolarmente fuori luogo il fatto che il cellulare porti lo stesso nome del veicolo del veicolo dei carcerati del trasporto dei carcerati perché noi siamo più liberi col cellulare dove siete più liberi dove provate a non rispondere al telefono basterebbe quello provate a non rispondere alle mail arrivano le telefonate e mi dicono ma io l'ho scritto una mail vabbè quindi anche la religione smuore perché non siamo più capaci di pensare in tempi lunghi non sono gli scandali religiosi non è la pedofilia non sono tutte queste cose è proprio l'incapacità psichica di pensare i tempi lunghi da pensare i tempi brevi perché è indotto dalla cultura della tecnica questo e poi mi spiace ma la forma forse più allarmante di inquietudine è costituita dalla storia noi non siamo più nella storia non c'è più un orizzonte di senso perché noi possiamo parlare di un orizzonte di senso poi possiamo parlare di storia quando gli appennimenti sono iscritti in un orizzonte di senso che era l'orizzonte della natura per i greci l'orizzonte della parola di Dio per i cristiani che era l'orizzonte della ragione dell'età moderna non c'è più questo orizzonte di senso perché per la tecnica non c'è senso perché per la tecnica il passato è semplicemente sorpassato e il futuro è un perfezionamento di procedure tecniche non c'è senso quando io ho cominciato a fare lo psicanalista nel 1979 la gente veniva per problemi a sfondo emotivo sentimentale sessuale adesso nessuno più viene per queste ragioni la gente viene per chiedere che senso ha la sua vita se la mia vita deve passare semplicemente a compiere le azioni prescritte e descritte dall'apparato non le dice così ma il concetto è questo ma vale la pena di vivere visto che la vita è una sola e infatti molti giovani rinunciano anche a posti ben remunerati è un fenomeno che si sta sviluppando è incominciato in America adesso incomincia anche in Italia rinuncia a posti sviluppati perché vedono la loro vita incatenata all'apparato e per essere all'altezza dell'apparato devi assumere qualcosa no? e se non sono psicofarm ci sarà la cocaina a Milano hanno fatto un po' di prelevamenti dal naviglio pieni di cocaina e se non basta la cocaina devi essere sempre up to date sempre all'altezza sempre informato non puoi andare lì da disinformato se occupi posti di lavoro importanti e via la religione poi ha perso tutta la sua ritualità la fede è una dimensione irrazionale ma la irrazionalità è una cosa importantissima è ciò per cui tu sei al mondo e ti diverti a essere al mondo perché irrazionale è irrazionale il dolore è irrazionale l'amore mica fate l'amore con la ragione voi no? e quando viene il dolore vi chiedete perché è irrazionale il dolore è irrazionale l'amore è irrazionale l'idealizzazione è irrazionale persino l'ideazione è irrazionale la fantasia è irrazionale il sogno tutta sta roba via perché sono disturbi per la tecnica la tecnica deve funzionare perfettamente e tutte queste cose veditele tu da solo sabato o la domenica se hai ancora qualche attenzione per te stesso altrimenti prendi la macchina e fai il weekend tranquillo già Pascal diceva che le divertissement è l'unica maniera per evitare di entrare in contatto con sé questo è secondo me lo sfondo di inquietudine lo sfondo peggiore di inquietudine è proprio che abbiamo perso qualsiasi orizzonte di senso e non c'è rimedio mi spiace non c'è rimedio che cosa avete da contrapporre alla tecnica Heidegger nel 1952 scriveva inquietante a proposito di inquietudine non è che il mondo si trasformi in un unico enorme apparato tecnico ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo siamo nel 1952 e anche noi non siamo preparati guardiamo i nostri nonni è cambiato il mondo rispetto all'epoca loro allora inquietante non è che il mondo si trasformi in un unico enorme apparato tecnico ancora più inquietante è che non abbiamo che non siamo assolutamente preparati a questa radicale trasformazione del mondo ma la cosa ancora più inquietante siamo al terzo grado di inquietudine è che non dispeniamo di un pensiero alternativo al pensiero capace solo di far di conto denken als recknen calcoli economici calcoli tecnici punto nient'altro capiamo solo che cosa è utile non capiamo più che cosa è buono che cosa è bello che cosa è vero che cosa è giusto che cosa è santo non capiamo più queste cose capiamo solo ciò che è utile non mi uscirà mai dall'elemento un incontro che ho fatto io abito a Milano però ho insegnato a Venezia 37 anni e tutte le settimane andavo a Venezia in certe zone sono ragazze con un'arpa non di quelle grosse della scala ma però abbastanza grossa perché era scompino in tutto lo scompartimento però poverina era simpatica abbiamo fatto posto lei si è messa lì con la sua arpa un signore molto elegante si è intrattenuto con lei per una buona mezz'ora ma veramente interessato veramente sincero nella dialogicità e noi tutti noi ad ascoltare questa conversazione tra lui che gli chiedeva con che strumento si suona l'arpa quante ore di esercizio richiede al giorno in che occasioni entra questo strumento nei concerti e dopo questo signore doveva scendere a Brescia e si alza ringrazia la ragazza la ragazza ringrazia lui dell'interessamento si è stato proprio molto contenta e alla fine però scendendo dal treno dico mi permetti un'ultima domanda a suonare l'arpa dov'è il business? eccolo qua il pensiero come calcolo se non c'è sto calcolo non si pensa niente è tutto inutile una via d'uscita ci sarebbe ma pare che sia finito il tempo non ve la racconto non ve la racconto dov'è quella che mi richiamava ad ordine? grazie 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 professore tutti andranno a casa domandandosi come se ne esce e quella sarà il nostro impegno di provare a costruire un sequel una nuova tappa per provare a vedere come avanti questa storia che ci ha fatto capire che forse ci siamo concentrati sull'obiettivo sbagliato il problema non è dove sta andando questa barca ma chi la sta guidando e se siamo noi a scegliere dove si muove oppure se ne abbiamo perso il controllo e se non siamo più capaci davvero di scegliere il nostro futuro e questo sicuramente è una prospettiva che rovescia e si apre a un nuovo percorso anche di pensiero uno dei tanti motivi per cui la ringrazio professore è che ascoltandola il ragionamento cammina tra le sue parole e si reattiva e questo forse è anche il senso di questi incontri è anche il recuperare un invito di un uomo che ha vissuto prima dell'età della tecnica al città dei Gasperi che è proprio qua a Trento come vi dicevo all'inizio muovendo i suoi primi passi nella scena pubblica si rendeva conto di una cosa la politica o la si fa o la si subisce ma per farla e questo è il primo discorso pubblico che fa dei Gasperi poco più che ventenne bisogna studiare studiare molto cercare di capire la realtà e mettersi via un'idea l'idea che la virtù della politica non è l'efficienza ma è la pazienza questo diceva De Gasperi forse questo in qualche modo fa eco con alcune delle tante e ben più profonde parole che abbiamo sentito questa sera prima di consegnarvi all'ultimo momento di questa serata che sarà la possibilità di farvi firmare dal professore nel foyer i libri che trovate disponibili anch'essi appunto nel foyer questo è l'ultimo incontro di una rassegna che ci ha accompagnati per un mese e che non ho realizzato da solo e per cui vorrei cogliere un ultimo momento della vostra pazienza per ringraziare le persone che con me l'hanno costruita e le invito a raggiungermi rapidamente qui sul palco per un saluto viviamo della collaborazione di chi ci dà fiducia come voi ma anche della passione di questi ragazzi e di queste ragazze professore se vuole venire qui con noi per un ultimo momento insieme questa è la fondazione Trentino al Città di Gasperi una realtà giovane che ha l'onore e il piacere di raccogliere parole importanti e regalarle grazie a tutti l'agosto del Gasperiano finisce qua ma vi aspettiamo per l'anno prossimo grazie nel foyer invece attende il professore per il firmacopia grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti